Biciclette elettriche e da corsa nei bivacchi dello spaccio. I carabinieri della stazione di Cermenate, durante i servizi straordinari di prevenzione dello spaccio nelle aree boschive, nella zona di Bregnano, hanno scoperto e sequestrato per accertamenti otto biciclette. Nella zona di Bregnano, nella frazione di Puginate, i carabinieri hanno geolocalizzato e poi smantellato due bivacchi, probabilmente utilizzati per le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati identificati quattro consumatori. In una zona impervia, vicino ai bivacchi, i carabinieri hanno trovato otto biciclette, tra le quali cinque mountain bike, una bicicletta da corsa e una bicicletta elettrica del valore di 5.000 euro. Tutti i mezzi sono stati recuperati e sequestrati per gli accertamenti sulla provenienza. I controlli straordinari hanno interessato altre zone boschive. Ad Alzatevrianza, i carabinieri della stazione di Cantù, in collaborazione con il personale degli squadroni Cacciatori Sicilia e Puglia, hanno individuato e smantellato un altro bivacco. In questo caso sono stati scoperti e sequestrati 25 grammi di eroina, 6 grammi di hashish e oltre 5 di cocaina, due bilancini di precisione, due coltelli e materiale per il confezionamento delle dosi. I carabinieri, con la collaborazione degli squadroni Cacciatori, proseguiranno nei prossimi giorni i controlli nei boschi. Le attività saranno ulteriormente potenziate nel periodo estivo.